La Miss scappa con la corona e l'accusa rivolta alla vincitrice del concorso di bellezza dell'Asia Pacifico. Maimi Atnoe, 16 anni, birmana, è stata anche detronizzata dagli organizzatori sudcoreani del concorso. In una conferenza stampa a Rangoon, la Miss si è detta pronta a restituire la corona da 100.000 dollari in cambio delle scuse.